E' già tempo di tornare sul parquet per la De Flex, che reduce dalla prima sconfitta stagionale ad opera di Cremone e che domenica prossima dovrà affrontare Avellino al Palacarrara. Si gioca a mezzogiorno, ovvero una delle squadre più forti del campionato. In questi primi allenamenti, coach esposito del suo staff cercheranno di far dimenticare ai propri giocatori la brutta prestazione del Palaradi per non avere degli strascichi a livello psicologico che potrebbero condizionare la sfida con gli Irpini. A proposito del lunch game, ci sarà anche T2L grazie al programma col cuore in gole alla lunga diretta del dopo partita che presenterà diverse novità. Intanto gli statunitensi Ronald Moore, Marcus Kennedy, Tyrus McGee e Jalen Bond e il georgiano Duda Sanazza accompagnati dal team manager Andrea Tronconi e dal dirigente Massimo Bulgarelli si sono recati in questura per mettersi in regola con i permessi di soggiorno. Nell'occasione il gruppo è stato ricevuto e salutato dal questore di Pistoia Salvatore Laporta. Grazie a tutti.